La persona gastronomica diciamo che mi è venuta ai 13 anni più o meno, perché a 13 anni in Italia, 14, bisogna decidere che scuola si vuole fare. Io ho scelto di fare gastronomia e fortunatamente è rimasto quello il mio sogno da quell'età. Dopo gli esami di maturità, ho lavorato sei mesi in un ristorante, però non mi sembrava di avere le qualità sufficienti per poter lavorare in un ristorante di alto livello. In quel periodo ho trovato un'inserzione su Facebook di Gasma e ho mandato un'email e mi hanno risposto subito al giorno seguente, con l'opportunità di poter venire qua e vedere la scuola, vedere il SEU, l'università, di conoscere un po' questo mondo più da vicino e lo stesso giorno ho fatto l'iscrizione perché mi sembrava una scuola eccezionale. Mi sono trovata benissimo, fin dal primo giorno, le persone sono fantastiche, è come essere una famiglia qua. Già con i professori dell'università del SEU sono meravigliosi, quelli di Gasma di più e con i compagni tutto perfetto, anche Castellone è una città bellissima. Fino a che sono rimasta in Italia, veramente non mi ero resa conto di quanto Spagna fosse grande nel mondo della gastronomia. Appena mi sono trasferita qui, ho capito che veramente negli ultimi anni è uno dei più grandi movimenti nella gastronomia e sono felicissima anche inconsapevolmente di essere venuta qua e di aver scoperto questo nuovo mondo. È stato bellissimo perché ho cominciato a conoscere non solo una cultura che non è la mia, ovvero quella spagnola, ma anche la venezuelana piuttosto che la guatemalteca. E' stato veramente bello perché non solo adesso che sono qua solo da un anno, praticamente conosco tantissime nazionalità diverse, tantissimi piatti diversi e questa è la cosa migliore. So i Gasma!